cambiare tutto per non cambiare nulla la psicologia della resistenza al cambiamento la celbe affermazione cambiare tutto per non cambiare nulla tratta dal romanzo il gatto pardo di giuseppe tomasi dell'ampedusa riflette perfettamente l'essenza della resistenza al cambiamento tale concetto è profondamente radicato nella psicologia umana e il desiderio di modificare ciò che ci circonda che diventa così un paradosso perché si oppone all'idea di avanzamento e invece tende a mantenere lo status quo le cose come stanno il cambiamento rappresenta una costante della vita umana eppure la nostra reazione adesso varia in base alle circostanze la citazione del gatto pardo fa riferimento ad un tentativo di conservare il potere e la tradizione ignorando le richieste di riforma sociale e politica proveniente dal popolo un concetto che può certamente essere applicato a vari aspetti della vita moderna la resistenza al cambiamento è un fenomeno ampiamente noto ed esplorato sia in ambito psicologico che psicoanalitico essa riflette la tendenza umana a preferire ciò che è familiare e prevedibile per dirlo in modo più semplice come recita un vecchio proverbio siciliano è meglio un male conosciuto che un bene da scoprire pertanto siamo portati a negare completamente il cambiamento e ad abbracciare ciò che è consueto ciò che è familiare tale resistenza può manifestarsi in vari modi dall'indecisione alla procrastinazione ovvero continuamente a rimandare fino ad arrivare alla negazione esplicita di nuove evidenze o prospettive quindi la celebre frase cambiare tutto per non cambiare nulla ci ricorda in modo eloquente la complessità del cambiamento ci ricorda che il cambiare porta con sé dolore e che è molto più difficile lasciare che scoprire perché un cambiamento sia autentico deve essere profondo e voluto con fermezza deve essere ricercato attivamente non è sufficiente rimaneggiare esteriormente una bambola o imbellettare un pupo per dimostrare che siamo cambiati